La nonna edizione a cui arriviamo quest'anno è un'edizione speciale. Noi con l'Associazione Culturale della Stele arriviamo felicemente nel 2021, dopo un anno di pausa dal Covid, ma siamo riusciti a organizzare quest'anno, venerdì 16 e sabato 17 luglio, questo evento a Novi Lara. Siamo insieme a altre realtà, a altre associazioni, e la cosa bella è che noi abbiamo sempre curato l'aspetto importante del panorama gastronomico locale. Invece quest'anno aumentiamo, diciamo, dando anche più attenzione al vino, quindi diventa proprio enogastronomico. Saranno presenti 24 cantine in degustazione lungo la cinta muraria del borgo di Novi Lara, molte poi da fuori regione, quindi invitiamo chi sia amante, appassionato e curioso di venire. Ci sarà la possibilità di mangiare presso i ristoranti, su prenotazione, oppure avremo un piccolo stand da sport per le nostre mitiche tagliatelle o una piadina. Il tutto ovviamente sarà secondo le normative Covid vigenti e avremo anche un'area di spettacoli all'interno del borgo, dove c'è un piccolo anfiteatro, anche lì con posti limitati, però per allegrare un po' la serata, dal venerdì con il San Costanzo Show, il sabato invece con la premiazione di un concorso letterario.